Siamo in discesa, non stiamo scendendo velocemente come si sperava, ma entro la fine di febbraio dovremo cominciare ad avere numeri molto più bassi rispetto a quelli che abbiamo adesso. La buona notizia è che hanno già cominciato a scendere anche i ricoveri ospedalieri, insomma il grosso delle vaccinazioni è stato fatto, adesso è importante una serie di operazioni per riuscire a convincere e rendere più facile le nostre città, quei 52 mila che mancano. Nel venire a vaccinarsi.